M'hanno detto che in platea c'è Cledi, io Cledi, su Cledi io alzo le mani, mi hanno detto che c'è Cledi, ho visto Cledi, il famoso ballerino Cassius Cledi, dove è Cassius Cledi? Cledi? Dove sei? Cledi, alzati, Cledi, alzati, 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 buonasera, buonasera, benvenuti alle amici, dove vai Cledi? Alzati, stai in piedi, il pubblico ti ama, girati verso di là, guardate, signori, guardate, 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 guardate le donne, Cledi facciamo una cosa, aspetta Cledi, io ti ho sempre invidiato, sai cosa ti ho sempre invidiato a parte saper ballare? Vuoi sapere la verità? Te la dico? Te la dico? Gli addominali, c'hai degli addominali, ma chi c'è ambeta pure? Ma dai, ambeta, ambeta chi c'è, ambeta chi c'è, alzati ambeta, ma dai, tranquilli, ambeta, ambeta, guardate, ingrassata di duetti, ma scusate, potete venire con me, adesso vi metto in mezzo, eh no, scusa, chi viene qua, guarda, Cledi, mi fai una cortesia? Sì? Eh? Non sono più come prima. Di cosa? Gli addominali. Ma non potrei mai essere, cioè, al mio livello, no, quindi, scusate, vi posso chiedere una cosa? Lo so che è difficile, non è facile, tu che scarpe hai, ambeta? Si può ballare con quelle scarpe? Dipende cosa, dipende cosa? Eh, aspetta, qui, aspetta, dipende cosa? Scusa, Frodo? Cosa, cosa, cosa vi piacerebbe, tipo? Latino? Latino? Tango? Tango, tango, ambeta e Cledi, gratis, non sono neanche pagati, anzi, hanno pagato, forse, no, avete avuto il biglietto maggio, spero. Sì, sì. Finiamo questi biglietti omaggio, eh? Lo faccio apposta, io, allora, ragazzi, ambeta, togli tutto, togli tutto, poi noi tagliamo in televisione, voi vi beccate tutti i preparativi, guardate, attenzione, state fermi un attimo, dobbiamo fare il taglio. Allora, possiamo fare una... Allora, fa ridere, vedete, vedete, vazzi, ci ambeta si è levata le scarpe, ragazzi, queste sono cose che nascono improvvisate, tu, per chi lavori? Ah, sei con noi? Ok, vieni, me lo ritrovo sempre in mezzo. Allora, questa è improvvisata così, il palco è vostro, io me ne vado, questa è Sky, via. Allora, guardate, parlatevi pure, ditevi qualche cosa, però vi voglio vedere live, dal vivo. Allora, avete deciso il tango? Tango! Ma lui, per lui il tango era... Ta-da-da, ta-ta-ta, eh, quello è il tempo. Non lo so, vediamo un po', voi andate, signore, è tutto improvvisato qua, eh, ambeta, eh, tledi, guardate, tutta al volo, eh. Posso? Guardate, guardate, signore. La gabbetta. Allè! Allè! Bene! Grazie a un bete, credi! Complimenti, congratulazioni, veramente, che bello, vedere giovani virgulti, secchi, che si muovono, sì, perché siete secchi, io vi invidio, vi invidio. Come fate? Che alimentazione, vi accompagno al posto, che alimentazione fai? Solo in bianco. Solo in bianco, ma è tristezza, mamma mia. È tristezza, solo in bianco. Scherzi, scherzi. No, no, tu ambeta cosa mangi? Un po' di tutto. Un po' di tutto. Ah, beh, vedi, perché poi sono quelli fortunati, ti fanno ancora più rabbia, io mangio qualsiasi cosa. Stanno così. Ambeta, Cledi, accomodatevi! Grazie, ma che bravi, ma che belli, ma che bei momenti! Lola?